Ok ragazzi, scusate sempre della PlayStation Gaffa Rumore Questo è un'altra mia di partite di Modern Warfare Ovviamente il microfono è disattivato perché poi lo vedrete Lo reattivo solamente per dire Wow, come sto forte Vedrete una partita in cui ho fatto moltissime kill Più di 10, dai un piccolo spoiler Più di 15, ancora più spoiler Quindi ragazzi, che dirvi, una buona visione Faccio così, se no mi danno il copyright Non, c'è una ronade paralysante No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no